28 ottobre 2018, sono sceso dalla camera, oggi c'è stato il cambio dell'orario, un'ora in meno, siamo ritornati all'ora solare, ecco qua la mia sala, tutti i quadri, la sala, il cammino e vado fuori a vedere il gallo. Vediamo se c'è, eh sì, 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 dov'è? Sono a Brumano, in Vallimagna, c'è la festa dei galli, eccola là la casetta che vado poi a raggiungere nella passeggiata in montagna sotto la pioggia. Eh, oggi è il 28 ottobre 2018, piove tanto, ma sono ben coperto, scarpe da montagna e giubbotto. Mi avio verso il sentiero della montagna con l'ombrello, però non faccio il sentiero nel bosco, ma faccio la strada asfaltata, eccola che bella la valle, anche nuvolosa. Vi saluto da questo YouTube di Aldo.